ciao a tutti ben ritrovati sul canale del garante in questo nuovo video andiamo a vedere un comando molto utile che si chiama importa pdf molto spesso capita appunto di ricevere dei pdf di non riuscire magari a interagire a modificarli con questo comando vedrete che sarà molto molto facile andare a modificare anche dei file in pdf senza dover stare a ripassare le linee sopra vi faccio vedere come fare prendo intanto un file di autocad nuovo diciamo prendo un pdf con le vecchie tavole dell'esame di ingegneria sismica che ho fatto come vedete mi chiede trascino l'icona qui all'interno di autocad mi chiede di mettere numero pagina io per esempio mi metto la pagina numero 4 premo invio mi chiede di specificare il punto di inserimento e la scala metto 1 la rotazione mettiamo 0 e come vedete ho importato il mio file di pdf su autocad però come vedete non è un file su cui io possa andare a lavorare utilizzando magari certo le quote come riferimento ma non ho le linee da poter modificare no come potete vedere dovrei andare a prendere ripassare tutte le linee qui sopra poiché non riesco appunto a interagire posso fare anche con il comando esplodi ed essenzialmente come vedete non posso interagire con le linee in questo caso ci viene in aiuto appunto il comando importa pdf premo invio selezionare un sottoposto pdf qui come vedete cliccate su file vado sul desktop vado a prendere appunto il file tavole ingegneria sismica clicco su apri a questo punto come ho importato la pagina 4 di prima posso importare la pagina 4 adesso vedete qui cliccate su 4 e poi ci sono varie indicazioni che ci permette di fare no quindi intanto la posizione la possiamo specificare sullo schermo la scala pari a 1 rotazione uguale a 0 e poi ci sono i dati da importare per esempio geometria vettoriale riempimenti solidi testo sul type immagini raster diciamo che io voglio utilizzare i layer del pdf creare le correnti creare oggetti importare come blocco ecco io non voglio per esempio importare come blocco voglio per esempio importare la mia geometria così come è fatta quindi clicco su ok clicco il punto di inserimento qui all'interno come vedete chiaramente rispetto al file di prima non ho più tante cose che c'erano però in questo caso vedete che possa andare ad interagire con tutti i dati che ho qui come potete vedere ad esempio questa trave con l'armatura in calcestruzzo armato e acciaio essenzialmente io che cosa faccio la posso prendere posso spostarla e posso interagire per esempio gli posso assegnare un layer nuovo che io creo per esempio il layer 1 gli metto il colore blu chiudo e per esempio a questa linea gli assegno il layer 1 ok quindi in questo caso io gli do dal layer posso andare ad interagire posso andare a quotare spostare modificare tutto quello che mi serviva andiamo a vedere anche se lo importo per esempio come blocco quindi premo invio lui mi va a sempre chiedere un file essenzialmente clicchiamo sempre sul 4 clicchiamo per esempio su importa come blocco premiamo ok clicco il punto e come vedete qui ha importato tutto come unico blocco no chiaramente questo è interagibile però se premo esplodi a questo punto come potete vedere qui posso interagire a differenza del comando con cui ho trascinato l'icona qui all'interno se faccio per esempio esplodi qui come vedete non porta niente chiaramente qui non ha la stessa precisione sono saltati dei collegamenti delle quote possiamo andare a provare di importare anche in altra maniera continuiamo sempre come prima 4 proviamo a cliccare per esempio altre cose come queste cose qui quindi riempimenti solidi per esempio levo immagini raster user layer del pdf clicchiamo vedete ci metto un pochino di più e però ha importato qualche informazione in in più no qui per esempio clicco su esplodi nuovamente come vedete qui chiaramente questa cosa è saltata però ci sono un sacco di cose sono state importate in più quindi vedete qui chiaramente fa un po di confusione con le linee però è stato importato piano quarto staff a quattro braccia insomma su questo io cercavo più di suggerirvi il comando che come importa perché essenzialmente poi magari me le sono ricostruite anch'io in maniera locale queste cose vedete per esempio qui non ha importato il riferimento del collegamento l'università degli studi di firenze del logo qui invece no quindi diciamo che questo secondo me è un comando molto molto utile quando poi si riceve un file in pdf e si vuole poi andare a modificare interagire prendere come riferimento quindi direi che per questo video è tutto vi invito poi a provare questo comando farmi sapere se vi è tornato utile se no iscrivetevi al canale lasciate un mi piace ci vediamo al prossimo video ciao a tutti